E' una scelta che viene da una decisione del Consiglio Comunale, da una condivisione con i commercianti, i cittadini erano contenti di questi ombrelli fino a quando li vedevano nelle altre città. Quando li abbiamo installati nella nostra città invece sono partite direttamente le critiche, critiche che possono essere anche strumentali alcune volte, alcune volte insomma hanno un fondamento di verità. Noi abbiamo dato, come assessorato sport e turismo, abbiamo ricevuto una proposta da parte di un'associazione, subito dopo che ci fu la delibera di Consiglio Comunale, per l'installazione degli ombrelli sospesi come è stato fatto in altre città. L'associazione ha dato l'ingarico ad una ditta, ad un'azienda che è rinomata negli anni per l'installazione di addobbi floreali e non solo, in centri commerciali, in luoghi aperti. Quest'azienda ha realizzato una grande installazione artistica che è di circa un chilometro su tutto il centro storico. Ovviamente in tutti i paesi in cui si è realizzata questa installazione capitano dei problemi, solo a Gela è successo che la critica è stata talmente feroce sugli ombrelli. Io mi ricordo su Ferrara che gli ombrelli caddero a causa di una forte volata di vento. Quest'anno la stagione è stata particolarmente vendosa, mi dispiace dell'evento che è capitato ieri alla signora sulla caduta di questo ombrello. Mi adopererò per sentirla al più presto, oltre che la manutenzione dell'installazione che verrà fatta prima della rimozione, perché per il periodo della festa della Madonna bisognerà montare le luminarie e quindi l'installazione sarà portata via. Io contatterò la turista per assicurarmi del danno subito da parte di questo evento accidentale che è capitato ieri sera. Mi fa piacere che i turisti vengano in città, ma mi dispiace che abbiano queste disavventure nella nostra città. L'obiettivo è quello di migliorare la nostra città e non sicuramente quello di causare danni a nessuno.